Ultimo turno di regular season nel campionato dei volley femminile. Conegliano chiude la stagione da imbattuta con 26 vittorie. Bergamo ha raggiunto la salvezza all'ultima giornata. Marco Fantasia. Ultima di regular season, tutti i verdetti sono stati emessi. Festeggia Bergamo per una salvezza clamorosa. Chiamata all'impegno più difficile contro Scandici, le Lombarde hanno tirato fuori una prestazione grintosa portando gli avversari al quinto set e prendendosi un punto decisivo perché al tempo stesso la diretta concorrente Cuneo perdeva 3-1 a Firenze. Le piemontesi lasciano così l'A1 al termine di un campionato iniziato sotto una prospettiva diversa. Scandici, pur sconfitta, si tiene il secondo posto per effetto della pesante sconfitta di Milano a Pesaro. La zona play-off non è mutata. Niente da fare per Casal Maggiore che chiude nona ma felice per una grande rimonta dalla zona retrocessione. Alla fase decisiva vanno Vallefoglia, Pinerolo che ha battuto l'altra retrocessa a Trento e Roma che davanti a un pubblico in delirio ha superato una Novara molto rimaneggiata e priva anche di coach Bernardi bloccato in albergo da un virus. Per effetto dei risultati questi gli accoppiamenti dei quarti di finale dei play-off che cominceranno mercoledì. Conegliano-Roma, Scandici-Vallefoglia, Milano-Pinerolo e Novara-Chieri. Conegliano-Roma, Scandici-Vallefoglia, Milano-Pinerolo e Novara-Chieri.